Musica Musica Benvenuti a Dietro le Quinte in questa puntata Un giorno come un altro con Luca Morosino e Carlo De Ruggeri per il Festival Trame Contemporanea e direzione artistica Marianna De Pinto e Marco Grossi. Un giorno come un altro per Trame Contemporanea parliamo subito con i protagonisti di questa pièce che è ambientata dove? In un seggio elettorale. In un seggio elettorale come sono i vostri personaggi? Sono due scrutatori, due personaggi molto diversi, opposti diciamo per una classico del teatro comico umoristico. Il mio personaggio è uno storico, un ricercatore ed è molto, sente molto il valore di questa giornata. E invece per contro il tuo personaggio? Il personaggio è un qualunquista che non sente affatto il problema che nessuno viene a votare in questo seggio elettorale. Per contro del fatto che lui è uno storico io ho un sito di scommesse online e sì sono due personaggi che hanno due caratteri completamente diversi e sono costretti a stare qui in un seggio dalla mattina alle 5 e mezza, lui arriva alle 5 e mezza alle 6 e ce ne andremo alle 11 quindi non so se sono 16 ore e queste le involucrano all'interno del quale devono stare, confrontarsi e poi hanno un'evoluzione questi due personaggi costretti a stare in questo. Raccontano in questa lunga attesa perché il bello è che gli elettori non arrivano, giusto? Non arrivano e come si fa a reggere un intero spettacolo con soli due attori in scena e l'assenza degli elettori che non ci sono? Beh è un'assenza molto presente in realtà in tutto lo spettacolo e poi ovviamente questo gioco ci consente a noi due interpreti di divertirci di esplorare tutta la relazione che c'è fra questi due personaggi che sono poi alla fine due persone sole direi anche quasi disperate diciamo Due falliti, potenziali suicidi. Comunque come si fa a reggere due attori un intero spettacolo deve essere scritto molto bene e l'ha scritto Giacomo Ciarrapico che è uno dei tre autori di Boris insieme a Mattia Torre e a Luca Vendruscolo e noi anche siamo due degli attori di Boris quindi ci conosciamo da tanto tempo anche io e Carlo abbiamo già lavorato insieme e questo ci aiuta perché... Questo è il segreto. Parliamo del pezzo o della scena più bella che ogni sera diverte il pubblico? È soggettivo, qual è? Non so, io penso che sia... beh non lo possiamo svelare, lo devono scoprire Dovete venire a vedere assolutamente questo spettacolo però è anche vero che il teatro è anche una questione di pubblico Come cambia lo spettacolo a secondo del pubblico di quella sera? Capita un pubblico un po' freddino magari in quel caso? Allora non c'è successo perché lo spettacolo dura relativamente poco, dura un'ora e dieci, un'ora e un quarto ed ha un grosso ritmo e anche noi non siamo lì a sederci su pausa e cose quindi andiamo diretti Certo che cambia, tutte le repliche sono diverse e questa è la cosa per cui uno viene... Io almeno si spinge a fare il teatro perché ogni sera è diverso, hai un orecchio dietro che sente le reazioni del pubblico e secondo le reazioni del pubblico calchi un po' di più, calchi un po' di meno ed è meraviglioso No, freddo ancora per fortuna no Un seggio elettorale nel giorno in cui i Godot sono gli italiani e l'astenzione raggiunge livelli quasi assoluti Ci sono irriverenti riflessioni sulla società e sulla politica italiana in un giorno come l'altro Spettacolo scritto e diretto da uno degli autori di Boris, Giacomo Ciarrapico con due degli interpreti della serie di culto, Luca Morosino e Carlo De Ruggeri Un seggio elettorale è un luogo simbolo di una democrazia Quel semplice gesto sia votare per anni è stato considerato quasi sacro da molti italiani ma con il passare del tempo c'è stato uno scollamento sempre maggiore tra paese reale e classe dirigente e questo fenomeno ha provocato un disinteresse dilagante da parte dei cittadini nei confronti di quel gesto sacro Ogni tornata elettorale la primavera notizia e la crescente astenzione degli eventi diritto Parliamo della vostra qualità artistica Allora tu ci svegli una qualità artistica di questo partner perché è bello lavorare con lui sulla scena è assolutamente consigliabile perché? Beh perché Luca ha una grandissima presenza scenica cioè è un attore di cui si percepisce il peso anche in cose diciamo audiovisive dove è anche forse più difficile percepire ma e poi e poi diciamo è fantasioso cioè quando si fa un lavoro teatrale è anche importante evitare la ripetitività No ma dietro questo è fantasioso chiaramente ci sta che non gli do Improvvisazione? No Improvvisate durante questo spettacolo voi improvvisate pure abbastanza? Un po' Qualcosina Qualcosina E regista? Che cosa dice? Esatto ne approfittiamo quando non c'è Oggi non ci sarà in sala Io a me piace la... Improviseranno? No 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 Credo che sia una stronzata diciamo improvvisare quando hai un testo preciso con degli attacchi precisi puoi rovinarlo Poi c'è un fatto che siamo in due quindi abbiamo un buono sforzo di memoria va fatto Appena esci da un seminato rischi di dimenticarti dove sei Quindi è un rischio forse inutile da prendere Certo che qualche cosa accade Abbiamo provato ad improvvisare a un certo punto a Monterotondo Vabbè c'è un momento No allora dunque c'è un momento dello spettacolo Qui c'è un seggio elettorale quindi ci sono dei partiti che andranno votati Partiti inventati no della fantasia Uno si chiama Tutti con Giovanni Un altro basta cemento e poi la vita è bella Ma che ho detto questo? Allora Tutti con Giovanni viene ripetuto varie volte Allora a Monterotondo stavamo lì e c'erano i cartelloni pubblicitari di questi politici C'erano delle elezioni C'era credo il sindaco in carica e si chiamava Riccardo E c'era proprio il cartellone vai Riccardo E quindi abbiamo pensato erroneamente di dire tutti con Riccardo Non ha funzionato perché era il sindaco in carica Non credo che fosse diciamo amatissimo Chiedo scusa al sindaco io non ho la più pari d'idea Però abbiamo sentito vai con Gelo L'ho detto tutti con Riccardo Però devo rispondere ancora alla domanda di prima Che è perché mi piace lavorare con Carlo Perché è di una bravura e di una precisione Che è straordinario Io se ho quel complimento che mi ha fatto Che mi prendo e mi porto a casa E me lo risentirò da qualche parte È perché lui mi permette di farlo Cioè è così strutturato come attore Che ti permette di poterti muovere un po' di più nel personaggio E quindi noi vorremmo vincere il telegatto Lo proponiamo insomma è un duo Perfetto se lo fanno ancora è un'ipotesi Abbiamo parlato di testi che funzionano Quanto è importante la scelta di un testo teatrale giusto? Beh è fondamentale Lascia il testo Oggi come siamo messi ad autori moderni? Noi siamo abituati bene Nel senso io e Luca Abbiamo un rapporto ormai di amicizia E di anche lavoro comune Con appunto con Giacomo Ciarrapico Così come è stato con Mattia Torre Che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa Che sono due autori contemporanei Di grandissimo valore Quindi per noi diciamo il rapporto con il teatro Si è basato molto sulla scrittura di queste persone A noi molto vicine Ma che hanno la capacità poi di individuare Nella realtà, nella società contemporanea Degli spunti e di costruire sopra delle storie Piene di riflessioni Di una visione naturalmente ironica Umoristica Senza forzare l'effetto comico Semplicemente avendo un occhio Su quello che Già nella realtà E' diciamo Portatore di qualcosa di Su cui si può ridere, sorridere Amaramente, non amaramente Però comunque Innesca una riflessione Nello spettacolo si racconta quel giorno In cui l'astenzione raggiungerà livelli quasi assoluti E solo il 4% della popolazione andrà a votare Ma un seggio elettorale è anche un luogo Dove alcuni cittadini, gli scrutatori Sono costretti a passare un'intera giornata Uno accanto all'altro Non sapendo nulla uno dell'altro E spesso avendo visioni diverse del mondo Non di rado Mal sopportandosi vicendevolmente Ed è così che Ranuccio e Marco Si ritroveranno fianco a fianco Nella sezione 4607 Un seggio alle porte di Roma Ad aspettare gli elettori Che non arriveranno mai Abbiamo parlato di comicità Secondo te come nasce la comicità Che funziona con il pubblico? E' una questione di ritmo Di ottima scrittura O di un'ottima intesa Anche con gli altri partner di scena? Io credo, non lo so Perché queste sono domande Diciamo enormi Che però ci devi mettere un po' di vita dentro Anche se stai facendo un cartone animato O battute anche affettate Quello che vuoi Però devi starci un po' dentro Non dico Strasbe, Stanislaschi Così, però Il pubblico lo sente Quando tu sei dentro Sente quando ti diverti Sente quando stai bene Nel personaggio E qui a proposito di autori Che chiedevi prima Sugli autori Noi Ti voglio dire come nasce questo spettacolo Noi facciamo dei pezzi Tanti anni fa Noi siamo una compagnia Che sono tanti anni Che lavorano insieme Facciamo dei pezzi Di 7-8 minuti Alla Cometa Off A Testaccio a Roma E il direttore Questo 15 anni fa Un giorno incontro il direttore Daniele E mi dice Luca ma rivenite Fate qualcosa Anche Emilia Gli facciamo anche Anche voi Facciamo i vecchi pezzi Anche i vecchi pezzi Vanno benissimo Per cui andiamo da Giacomo E io gli dico Giacomo Senti vorremmo fare i vecchi pezzi Anche i vecchi pezzi Vi scrivo una cosa nuova Quindi sugli giovani autori O gli attori Che devono cercare Degli autori Eccetera Noi l'abbiamo creato Cioè Giacomo ha scritto Su di noi Ha scritto sapendo Che l'avremmo fatto io e Carlo E quindi E conoscendoci bene Quindi conoscendo le nostre differenze Conoscendo le nostre possibili Dove possiamo accelerare Come personaggi Come attori Dove Insomma Ci sentiamo in una zona Di comfort E ci muoviamo bene Quindi Sui giovani autori Non lo so Io vi ricordo Che noi facciamo anche i Goldoni A Goldoni se lo vai a leggere Il servizio dei due padroni Non è che Sulla scrittura Fa ridere Allora lì serve molto Tante prove Serve anche molto impegno Degli attori E anche molta bravura Autori bravi Ci sono sicuramente Non Io sono un ignorante Insomma In Italia È un po' diverso Che all'estero Perché all'estero È come al cinema Tu vai a teatro Vedi sempre testi nuovi Invece in Italia Forse le stagioni Sono popolate Sempre dei classici Quindi questa è un'eccezione Perché trame contemporanee Questo festival No? Però di solito C'è questa abitudine Sì Un po' Un po' È così Anche se Ho l'impressione È che negli ultimi anni Si stiano aprendo Un po' più Di spazi Per il teatro Per la drammaturgia Contemporanea Italiana Però è vero Che È sempre Complicato Far affermare Questi In Italia ci sono Molti classici Perché molti teatri Hanno tanti abbonati E gli abbonati Vogliono Cioè Vogliono vedere Anche dei pezzi classici Di solito Gli abbonati Hanno un'età Diciamo Un po' più avanzata E quindi Rivedersi delle cose Poi c'era Teatro Nord Giapponese In cui andavano A vedere sempre Lo stesso pezzo E guardavano solamente Delle piccole differenze Nella interpretazione Ma in Giappone In Giappone Invece qui in Italia Eh qui in Italia Il classico ancora va Ancora va Ancora va E se è fatto bene Buono così No? Ma viva anche Le trame contemporanee Grazie mille Per essere stati con noi Adesso un saluto Al pubblico Pubblico di Dietro le Quinte Allora Pubblico di Dietro le Quinte Venite a vedere Questo un giorno come un altro E noi lo diciamo sempre Ridiamo i soldi A chi non è contento Ma non succede Non succede mai Taglie Sì sì Luca Eventualmente Vi ridà i soldi Ma sì Beh non penso Che succederà Quindi insomma Tenete d'occhio Questo spettacolo Speriamo di farlo In più teatri possibile Ma un'altra cosa Un'altra cosa Ma invitiamo i malati Di Boris Soprattutto A venire Perché ha Diciamo Qualcosa Che potrebbe Richiamare A noi ci piace farlo Per poche persone Per questo teatro Meraviglioso Dove siamo Qui a Molfetta Molto Eh Sì 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 Secondo me Se ti è piaciuto Boris Devi venire Beh Se non altro Ha la stessa penna D'origine Diciamo E con questo è tutto Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com E per le vostre generazioni Infochioccio Editolequintetv.com Arrivederci alla prossima puntata Sì 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 Autore dei sorrisi